Nella giornata mondiale della bicicletta il mio pensiero va a tutti i comuni, gli amministratori che investono nella mobilità sostenibile. Li premiamo ogni anno all'Assemblea Nazionale di Anci con l'Urban Award che ha innescato ormai una gara virtuosa a fare meglio, a fare di più, sempre in questa direzione. E allora la mia speranza è che continuino a fare sempre di più e il mio saluto proprio oggi va a tutti questi amministratori anche coraggiosi che operano in questa direzione.